ben ritrovati amici ma soprattutto amiche dello spallino punto com appuntamento numero 21 con la diretta del mercoledì sera dello spallino e mi sento di dire che forse questa diretta oggi mercoledì 9 marzo ha raggiunto il punto più alto mai mai toccato prima e forse abbiamo anche esaurito il nostro scopo ciao martina politico leo biscuo ciao a tutti non c'è più epica nel nostro discorso nel senso che è una giornata che ha segnato un traguardo che c'eravamo prefissati prima della fine del campionato e questo traguardo è stato raggiunto perché non è la salvezza non è la salvezza per chi non lo sapesse lo annunciamo lo annunciamo la smettete con questa cosa della chat privata l'abbiamo scoperta stasera dopo mesi dopo anni che facciamo questa cosa ma è successo che federico viviani già sbloccati su instagram ragazzi c'è se posso dire una cosa io avrei avrei tenuto il colpo in canna ma no no lo diciamo lo diremo lo diremo una volta in dieci minuti che diremo un totale di cinque volte oggi quindi viviani si ha giocato anzi se vuoi mettere sotto ok aspetta wow adesso c'è anche la possibilità di mettere la musica di sottofondo potevo mettere un una roba trionfale ma adesso però adesso che lo so e polli orla è durato tipo sono passati tre minuti due minuti neanche perché oggi ha fatto l'intervista a viviani e la trovate nella newsletter che ha fatto anche altri 39 nuovi seguiti esatto e quindi niente quindi ogni dieci minuti lo diremo circa cinque sei volte e dovremmo anche brindare non abbiamo pensato di brindare ogni volta che viviamo perché l'evento l'evento è di pochi minuti fa in realtà nel senso che non non me l'aspettavo c'è successo tutto troppo in fretta quindi non ho potuto attrezzarmi con con gli strumenti adeguati intanto arriva allora un attimo intanto metto intanto salutiamo un po di gente ragazzi sì esatto salutiamo tutti quelli che ci stanno scrivendo Edoardo Alessio Paolo ciao Mauro Luca Stefano Roberto ciao a tutti e ripetiamolo nuovamente per chi si può essere posto all'ascolto solo in questo momento come dicevano una volta la radio intanto è successo dobbiamo intanto scusarci perché la settimana scorsa abbiamo fatto fuoco come c'era la SPAR che giocava abbiamo detto sì vi faremo sapere alla fine non vi abbiamo fatto fuoco non è affattibile perché con la SPAR che gioca a 18 e 30 la partita finisce alle 20 e 20 e ora che si facciano i servizi sulla partita si fanno le 10 di sera e siamo tutti più che cotti quindi ci perdoneranno ci perdoneranno i nostri i nostri soliti followers saluto non sbloccherai mai sola e direi che potrebbe diventare un hashtag c'è anche punto che ha visto che Viviani si è sbloccato adesso bisogna trovare un nuovo hashtag e Viviani si blocca un nuovo obiettivo un nuovo obiettivo esatto ci concentreremo su questo obiettivo dai Roberto Brunelli scrive è scoppiata la pace sì quindi confidiamo che questo sia un presagio positivo anche per quanto sta accadendo nell'est dell'Europa che magari la smettano di sparare bombardare e far scappare le persone che ne abbiamo abbastanza di questo problema e intanto ciao anche a Maurizio e Francesca comunque sì la notizia del giorno riguarda Viviani scusate devo fare un saluto a Mentore che è un mio compagno di corso che gli avevo promesso che avrei salutato ciao Mentore e ciao anche Mazzo ciao Mazzo ciao Mazzo allora storica giornata di pace ma allora non mi interessa evidenziare più di tanto ora manca solo Pat in diretta eh Andrea cavolo ci stai mettendo un obiettivo complesso è un po' complicato si alza un po' la schicella lì anche perché dovremmo fare poi una diretta in inglese difficile da reggere raga ma no dai si potrebbe fare con la traduzione consecutiva però sì diciamo che il problema è raggiungere è raggiungere Pat Carroll è vero la disposizione ma magari in una delle sue gite in barca alle Bahamas è come dice uno dei nostri lettori ma Pat Carroll ghinciava quella spalla non più non più ma che ne sai ma magari gli interessa raccontare la sua versione della storia questo non lo possiamo sapere perché tanto scusa scusa Leo la aggiungiamo un attimo su questo prossimo step incontro Colombarini e Matteoli sì Edoardo stai esagerando un po' no dicevo Pat Carroll se volesse spiegare ai tifosi della SPAL cosa è successo dal suo punto di vista chi dovrebbe contattarci chi chiama Sovrani non ce lo vedo io ho un intervento lunedisport di Pat Carroll collegato ragazzi io lo vorrei vedere però vabbè insomma ragazzi torniamo in topic come direbbe Pat Carroll orla raccontaci com'è andata oggi esatto perché l'intervista ha avuto luogo oggi e poi in fretta e furia ho allestito la newsletter l'ho mandata a tutti quelli che sono iscritti torno a ribadire iscrivetevi perché ne vale la pena e perché ogni mese ci proponiamo di farvi avere un contenuto esclusivo come in questo caso l'intervista Viviani il mese scorso l'intervista a Tiam che tra l'altro gli ha portato anche molto bene infatti probabilmente Tiam è stato lui a bloccare lo spaglione su Instagram nel frattempo non l'ho controllato comunque detto questo è stata una chiacchierata molto interessante non starò qui a elencare i punti salienti perché sennò la gente non si iscrive c'è tanta gente che l'ha già letta abbiamo ricevuto anche dei complimenti mi fa molto piacere magari Pat contatta orla e lo invita a Dubai per l'intervista se mi convoca ma se vuole convocarmi anche a Tampa Florida devo solo rinnovare il passaporto detto questo Viviani vi dico quello che io ho colto al di là delle sue dichiarazioni un ragazzo che tra 20 giorni meno 15 compirà 30 anni quindi arriva a uno dei punti importanti insomma della vita di una persona e l'ho visto proprio molto molto consapevole di se stesso cioè molto equilibrato molto misurato molto tranquillo sembra una persona in pace prima di tutto con se stessa che è la cosa più importante a livello interiore ma anche col mondo nel senso che dopo voi direte giochi a calcio guadagnano sbaracco di soldi per forza che sei in pace col mondo non è detto perché conosciamo un sacco di calciatori di atleti irrequieti che per un motivo o per l'altro non sono totalmente loro agio invece mi sono trovato davanti un ragazzo che non solo ha parlato volentieri con me che fino a mezz'ora prima rappresentavo il male ma che ha spiegato le sue ragioni secondo me in maniera molto molto sensata e molto tranquilla e quindi mi ha fatto veramente una buona impressione beh questo è senz'altro positivo anche perché comunque al di là delle battute della storia che ormai ci abbiamo ricamato sopra da inizio di questa stagione che non sono esatto che non sono in realtà da qualche anno in realtà diciamo non è nella nella volontà dei giornalisti nella nostra volontà quando dobbiamo compilare le pagelli o dare dei giudizi andare a colpire la persona oppure cercare di denigrare volontariamente semplicemente e peraltro non lo si fa a cuore leggero quando si danno dei risultati negativi ci resta sempre un po' quell'amaro ma quello che comunque lui in qualche modo ha confermato in un passaggio nell'intervista è stato comunque che lui stesso e non poteva che essere altrimenti perché sono i fatti ha comunque detto sì è vero cioè era un periodo in cui anch'io mi facevo le stesse domande che in qualche modo vi facevate voi da fuori quindi insomma ha dimostrato secondo me estremamente equilibrio come diceva Orla ma anche insomma intelligenza di analisi ecco cioè non avrebbe avuto senso né non chiedergli come conto diciamo del periodo precedente né tantomeno sentirsi dire da lui stesso ma tutto bene semplicemente non giocavo perché l'anotore non mi vedeva insomma ha detto che tutto sommato qualcosa non c'era e questo conferma quello che abbiamo visto assolutamente sì un grande gesto di maturità di una persona matura oltre che un buon giocatore eh sì e tra l'altro a Vivio ho detto guarda che quest'anno ti abbiamo dato solo dei sette dei sette e mezzo quindi cioè se non ci sbocchi da quando è rientrato gli abbiamo dato se non sbaglio un sette e mezzo un sette e un sette quindi cioè sta andando con una media che io a scuola e Orla come è andato a vedere i muti che gli ha dato perché aveva paura di comprare i nostri oggi ma dirò di più sappiamo che Orla prende molto sul serio il suo lavoro e quindi non voleva sfigurare nel dare Allora Luca ci fa delle domande quando gli scade il contratto giugno 2023 quindi tra un anno erotti è un crocevia per la sua carriera sì perché al termine di questa stagione si avrà mantenuto quel tipo di rendimento come è arrivato il Brescia a gennaio a volerlo potrebbe arrivare qualche altra squadra magari qualche contendente per la promozione diretta cambierà casacca non lo so perché ci sono anche dei parametri economici da far quadrare perché Viviani allo stato attuale è uno dei giocatori più pagati della Rosa della Spal e sarà uno dei pilastri del progetto di Luferrigno Luferrigno ovviamente è giù da coppina e presumo di sì se dovesse rimanere perché comunque è un giocatore che sia con Clotet sia con Venturato è stato considerato importante quindi non vedo perché dovrebbe essere relegato in una posizione di secondo piano sono comunque risposte da da Divino Telma queste qui perché cosa succederà dipenderà da come andrà a finire questa stagione increscendo anche dalle prospettive che ha Viviani stesso perché insomma Tacopina ci ha detto che l'anno prossimo fanno una squadra per andare su però Tacopina ci ha detto anche tante altre cose quest'anno e si è sbilanciato un sacco quindi bisogna vedere a fine stagione a fine stagione a fine stagione Leo dovremmo fare una cosa fare un'operazione che nel giornalismo soprattutto statunitense viene fatta molto frequentemente che si chiama fact checking no? cioè la verifica dei fatti cioè andare a prendere tutte le dichiarazioni di Tacopina da agosto a oggi e vedere quante si sono poi rivelate veritiere o diciamo compatibili con gli eventi Orla sta citando le basi per farci bloccare anche da Tacopina e non farci fare non farci più lavorare neanche e non farci fare neanche il ritiro negli stays che stavamo programmando quello andiamo con il Galo Guercio cioè non è un problema e allora Valentina se sei in ascolto accogli il nostro appello ma io sono sicuro che organizzeranno cioè non ho dubbi su questo comunque no Alberto Tabacchi dice ma Tacopina dov'è che ci sono due settimane che non si sente è negli Stati Uniti perché con il suo studio legale sta assistendo questa figura politico barra mediatica che si chiama Kimberly Guilfoyle che è niente meno che la compagna di uno dei figli di Donald Trump perché perché questa signora è è stata chiamata a testimoniare in una commissione del congresso statunitense che sta indagando sugli eventi del 6 gennaio 2020 quando forse lo ricorderete orde di squilibrati assaltarono l'equivalente del nostro Parlamento negli Stati Uniti causando anche dei danni molto seri insomma fu una roba gravissima e una delle questa Kimberly Guilfoyle è praticamente accusata di aver finanziato i gruppi che hanno assaltato il Campidoglio negli Stati Uniti Capitol Hill e di averli sostanzialmente istigati a farlo insieme ad altre persone legate a Trump è un caso spinosissimo difficilissimo di enorme risalto mediatico negli Stati Uniti tanto che se uno guarda il New York Times Tacopina è anche nominato perché ha rilasciato le dichiarazioni su questo caso e quindi fino a che non avrà terminato questa sua consulenza legale in questa fase non tornerà in Italia sostanzialmente la questione è questa qui vabbè direi che comunque è stato più che esaustivo nella risposta no tutto sommato esatto Tacopina aveva promesso questo è vero l'ha mantenuto che avrebbe fatto due settimane a Ferrara due settimane a New York e tutto sommato fino adesso lo stanno mantenendo fino adesso l'ha fatto esatto non gli si può certo imputare il fatto di essere stato poco presente ecco no no ma infatti comunque ci è stato detto che appena sarà in grado tornerà in Italia insomma non c'è motivo di preoccuparsi magari tornerà verso fine mese perché tra l'altro oggi è uscito il calendario della Via Reggio Cup l'ex Coppa Carnevale e il 21 marzo che è un lunedì la SPAL giocherà al Mazza contro una squadra di ragazzetti new yorkesi che peraltro vengono dal quartiere di Brooklyn proprio da dove è cresciuto Giotto Coppina mi viene da pensare che questo evento non se lo vorrà non se lo vorrà perdere però fino avanti dice 5 dollari di parcella immagino 5 con un po' di zeri una robetta no scusate ragazzi però io volevo tornare un attimo non sul discorso Viviani in sé ma su una suggestione che mi è balenata per la testa mentre chiacchieravo con Federico Viviani oggi cioè che anche a maggior ragione col commento che ha fatto Luca prima sul contratto se ne andranno se ne andrà uno degli elefanti nella stanza che si ripresenteranno a giugno metaforici ovviamente è Murgia è Murgia che è finito in un tombino di fatto perché non gioca mai 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 a Perugia e anche lui come è accaduto a Viviani si troverà al fine di questa stagione a essere riduce da da due anni piuttosto orrendi sotto ogni punto di vista quello che avrei voluto chiedere a Viviani ma non me la sono sentita perché sono affari di Murgia non di Viviani però io ho detto ma ritieni che uno come Murgia visto che tu l'hai conosciuto possa uscire da sta buca come hai fatto tu perché il mercato della spalla della prossima estate non voglio dire che ruoterà attorno a questa pratica però comunque ci sarà tutta la differenza del mondo da avere Murgia in rosa e doverlo pagare o a non averlo più e aver liberato risorse importantissime per fare una squadra importante quindi questo è un interrogativo che secondo me a ridosso della nuova stagione dovremmo cominciare a cogitare tra l'altro un'altra cosa che hanno in comune i due è che entrambi sono saldati al mental coach non so se vi ricordate l'intervista di la famosa mental coach che ha nominato proprio Murgia in un'intervista alla Gazzetta dello Sport quindi secondo me comunque per quanto riguarda la risposta alla domanda che fa Torla è estremamente complicato perché uscire da un momento come quello che stava attraversando Viviani e come sta attraversando Murgia ci sono troppi fattori che concorrono a questa cosa lui stesso ha parlato di fattori ambientali familiari personali di ogni ordine e grado quindi è difficile andare noi da esterni o anche Viviani che comunque non è che viva con Murgia andare a a capire se una persona ha le capacità le risorse potete riuscire da una situazione sicuramente è un grosso problema per la Spal perché al di là dell'ingaggio e la durata del contratto che è una cosa incredibile il giocatore comunque è sotto contratto e una sistemazione la si dovrà trovare ecco anche se dovesse malauguratamente rimanere a Ferrara potrebbe comunque essere un problema nonostante comunque dentro in società o comunque chi è stato vicino dica che comunque si è sempre comparato in maniera esemplare ecco questa personale non ha mai creato problemi però Polly stavi dicendo qualcosa no no dicevo che chiaramente il fatto che stiano barra abbiano vissuto una situazione analoga non implica il fatto che entrambi possano reagire allo stesso modo sicuramente serve una scusate non so se si sente ma ho un audio attivo credo di averlo disattivato va bene ma chi se ne frega no continuavo a sentirlo io speravo non si sentisse in diretta è così bello il ritorno audio quando si perché non lascia no dicevo sicuramente sta nelle capacità fisiche e mentali di una persona riprendersi o non riprendersi il fatto che Murgia rimanga in una situazione di stallo resterà secondo me un interrogativo fino a che non lo rivedremo in una veste o in un'altra poi mi aggancio alla alla questione esatto perché ho letto un bel po' di commenti Murgia blocca lì Murgia blocca lì ragazzi se cominciamo adesso con Murgia blocca lì devo controllare eh sì in effetti non sappiamo se Murgia ci abbia bloccato no intanto qualcuno prima diceva che probabilmente Viviani c'era già ribloccato ma però no dai pack checking anche lì Andrea ci fa una domanda ci chiede ma Venturato rimane e secondo voi Murgia serve al progetto Venturato anche lì secondo me lo scopriremo solo vivendo cioè potremmo sapere se Venturato rimane solamente ma Venturato dovrebbe andare esattamente nel senso che è venuto qua questi sei mesi c'ha uno o altri due anni di contratto addirittura cioè perché è arrivato comunque con come dire si vabbè prendo la squadra in questo momento qua per poi la prossima facciamo una roba un po' più seria eh sì certo veramente è arrivato con un progetto il mental coach di Murgia deve essere di Magotel ma ha scritto Pierantonio non lo sappiamo ha preso la stessa mental coach di Marcel Jacobs quindi insomma con Jacobs i risultati sono stati ottimi vediamo se anche Murgia magari anche la base di partenza era un po' diversa rispetto agli obiettivi la seconda parte della domanda di Andrea Murgia serve il progetto di Venturato boh perché se il Murgia è quello di Perugia sospetto di no perché o a Perugia non stanno vedendo le sue immense qualità o lui non sta dando niente che faccia pensare ad Alvini tecnico del Perugia che mi sembra sia ottavo o nono in classifica che ha legittime aspirazioni di titolarità quindi presumo che il Murgia adesso no non sarà utile avventurato se torna e fa una roba alla Viviani cioè che si tira lucido e già in ritiro fa vedere di essere un giocatore importante perché non dovrebbe rimanere fermo restando che guadagna esageratamente tanto ed è un ingaggio che in Serie B penso non abbia nessuno o forse qualcuno del Monza ecco per gli standard della SPAL direi che non non è una previsione dice Murgia rinascerà Ferrara ci credo quindi vediamo c'è molto scetticismo su questo ma c'era molto scetticismo anche su Viviani quindi esatto infatti non escludiamo più Murgia però scusate mi serve Murgia anche per coinvolgere su un altro argomento perché Murgia ricorderete è arrivato è andato via il 31 di agosto insomma dopo aver giocato anche la prima di campionato a Pisa con quel coso sbagliato che grida ancora vendetta e il Perugia ha mandato qua Melchiorri Melchiorri il sottovalutato scritto perché è effettivamente così perché è un giocatore che è arrivato l'anno scorso sera in C 34 anni erotti infortuni cose varie però è una pedina di scambio cioè è arrivato giusto per dire ti diamo Murgia dammi chi ti pare dammi il magazziniere basta che ti prendi Murgia ma il magazziniere no perché ci sono ci sono due ottimi magazziniere la SPAL quindi non è il caso però sai però salutiamo comunque quando arriviamo salutiamo Marco e Tommaso che sono i magazziniere della SPAL dobbiamo fare una diretta con i magazzini della SPAL non ce lo faranno mai fare esatto già per l'intervista abbiamo avuto no ma poi Marco è uno dei ragazzi più timidi che abbiamo mai conosciuto dubito gli interessi seriamente di partecipare alla diretta comunque fine di questa digressione comunque Melchiorri i ragazzi sta togliendo le castagne del fuoco spesso e volentieri è quello che volevo dire è un giocatore a me piace insomma poi si dà da fare oltre al fatto che la caccia dentro e fa dei gol non banali 4 gol finora in 20 presenze 20 presenze di cui quante hai il dato la titolare 9 volte la titolare infatti la metà circa però è sotto i 1000 minuti di gioco quindi vuol dire che fa un gol ogni 200 e rotti minuti che insomma non è malissimo non è male per una punta di scorta per una punta di scorta esatto però sì diciamo per adesso le cose stanno andando abbastanza bene perché nel momento in cui Colombo si è inceppato c'è stato Melchiorri che in qualche modo ha comunque garantito quel po' di gol e poi al di là di Melchiorri ragazzi cioè io veramente la persona il giocatore insomma che mi ha più impressionato e che ha avuto un impatto devastante cosa sulla quale io non scommettevo neanche un euro è Vido cioè io pensavo potesse essere funzionale perché l'aveva chiesto Venturato perché tutte le cose che abbiamo detto è stradetto però al di là del fatto che se ne mangia anche perché comunque è un giocatore però esatto però se ne li facesse tutti probabilmente non giocherebbe nella spalla in Serie B comunque è un impatto devastante insomma io non so cosa ne pensate voi però è uno dei giocatori che in questa squadra mi sta impressionando di più insieme a Mancosu che inizialmente era un po' così però adesso al di là del fatto che adesso è infortunato comunque un giocatore è il capitano di questa spalla Alessio ci scrive probabilmente riferendosi a Melchiorri che ha le sue stesse prestazioni cioè uno ogni 240 giorni dipende quanto si fa di giochi vabbè è meglio non approfondire una cosa che mi preoccupa è che no mi rallegra vedere continue sottoscrizioni alla newsletter la cosa che mi preoccupa è che l'ultimo in ordine di tempo è una sottoscrizione di uno che ha l'indirizzo email zioadolfo04 at non dirò quale provider ma vabbè spero vabbè è goliardico è goliardico speriamo Elena Fregnani ci chiede doveva essere uno scambio tra scarsi noi ci abbiamo guadagnato di brutto no non era non era uno scambio tra scarsi Elena era uno scambio tra giocatori che nei rispettivi progetti tecnici non avevano una collocazione però Melchiorri quella collocazione l'ha trovata e gli è andata a Benone e quell'altro no era uno scambio tra una scambia e chiunque mi viene da dire a noi è andata un po' meglio a loro un po' peggio però però se vi ricordate e ora probabilmente si ricorderà per la sua memoria ideale quando Melchiorri quando è stato annunciato lo scambio nel sito del Perugia non c'era un commento dei tifosi del Perugia che fosse contento e tutti dicevano che la società aveva fatto una cazzata non so se ricordate questa cosa non ricordavo questo particolare io me lo ricordo bene invece proprio quel mentre dal lato Spal chiaramente si stoppava la bottiglia tutti dicendo ah finalmente finalmente chiunque la tutti davano contro la società perché dicevano ma cosa avete fatto ma perché non c'era necessità di darlo via e quindi tutto sommato insomma qualche avviso che il giocatore potesse essere buono a della carriera che ha fatto c'era ragazzi c'è una domanda che mi sembra che sia stata già ripetuta un po' di volte riguardo Melchiorri si chiede se il cartellino è della Spal o no no perché è uno scambio di prestiti tuttavia mi risulta che Melchiorri sia in scadenza di contratto col Perugia quindi al termine di questa stagione a meno che ci siano cose che non conosciamo sarà libero di accordarsi con chi vuole poi bisognerà capire insomma qua quali sono i progetti nel senso che se la Spal magari vuole provare a trattenerlo come elemento di esperienza un po' come fece con Flocari gli anni scorsi come riferimento dello spogliatoio tra l'altro sono venuto a sapere che è un grande giocatore di freccette che dentro la Spal c'è il clan delle freccette di cui Dickman è il principale animale quindi vorrei fare una diretta in cui parliamo di freccette con Dickman e Melchiorri però ecco al di là di questo bisognerà capire un po' i progetti tecnici a fine stagione anche perché tra le altre cose di attaccanti sotto contratto a fine stagione se non sbaglio ci sarà solo fino a otto poi tutti gli altri sono qui con accordi temporanei quindi mi vien da dire che l'attacco verrà rivisto bisogna capire con quali soldi e con quali logiche comunque al di là di questo dovremo anche parlare dell'ultima partita della Spal in realtà delle ultime due perché siamo post due partite però tanto vale parlarne solo dell'ultima perché la penultima praticamente la Spal non è scesa in campo quindi non c'è gran che da dire sto parlando di Parma era la terza ultima quella la terza ultima è quella di Parma sì quella lì è sempre tu Polly tra l'altro eri lì hai avuto la fortuna di vedere una di vedermi al vivo non me la sento di commentare ho capito ormai è passato un po' di tempo facciamo meno lasciamo perdere abbiamo perso l'occasione la settimana scorsa brutta roba esatto e niente quindi direi di se non ci sono altri commenti parliamo del momento hai 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 introdotto l'argomento poi l'hai lasciato lì non ho capito no no non l'ho lasciato lì non sapevo se la Polly aveva altri commenti a leggere perché l'ha lanciata prima ma al momento sì sono rimasta un po' indietro nella lettura ma andate pure avanti che mi raccapezzo ok allora ne prendo uno io se non mi ricordo di chi però qualcuno ce l'aveva chiesto in cui ci chiedevano sostanzialmente il grande dubbio che hanno avuto tutti ossia la SPAL ha praticamente fatto a pezzi il Como il Como non l'ha mai vista quella partita ma sono più i meriti della SPAL oppure sono più dei meriti del Como perché questo è un tema posso dire che secondo me questa è una domanda che spesso i giornalisti usano e che secondo me non ha nessun senso perché come fai a stabilire meriti cioè ci sono sempre meriti ed è difficile dire se sono più uno più l'altro anche perché le partite cioè l'abbiamo visto ne abbiamo visti abbastanza da dire che se anche sei sfavoritissimo magari vai di là con una scarabuzzona su un calcio d'angolo vai in vantaggio porti a casa il pareggione o addirittura la rubi quindi le partite non hanno quasi meno andamento prevedibile allora il Como però il copione è stato ben chiaro di questa partita mi sento un po' di dissentire in questo caso perché secondo me ci sono delle partite in cui effettivamente ti rendi conto di aver vinto così cioè di aver fatto di averla sbagliata un po' a casa in questo preciso contesto secondo me non ci sono stati demeriti del Como ma meriti della Spal perché le occasioni che si sono create al di là del risultato che è rimasto un 2 a 0 però mi sento di dire che poteva essere un risultato anche ampiamente più favorevole però tu così mi stai dicendo che il Como visto contro la Spal era il miglior Como possibile no no assolutamente ti sto dicendo e allora se io ti demeriti il Como sì no 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 aspetta io penso che non mi ha capito sì ma perché se mi dia orla di un uomo fino alla fine invece non è così sì ma è sempre così non è così è la sconsa minestra della situazione esatto devi fare la sconsa minestra comunque vabbè guarda tolgo l'audio così andate sì bravo io sono assolutamente d'accordo con te Poli perché al di là del fatto cioè secondo me la Spal ha avuto anche la fortuna di trovare il Como in un determinato momento perché gli mancavano dei giocatori non che la Spal non mancasse però non mancavano di più era in un momento in cui le cose non stavano andando granché e la Spal ha fatto la prestazione giusta perché secondo me orla quello che tu dici che non puoi dire i meriti o i demeriti di una squadra secondo me non è così perché se riprendiamo la partita di Parma che ho citato prima per carità il Parma può avere avuto anche i suoi meriti per aver interpretato bene ma in quel caso tu potevi chiaramente definire i demeriti di una squadra che la Spal che non ne ha presa una cioè non è scesa in campo l'ha detto tutti quindi in questo caso qui secondo me sono stati più i meriti della Spal perché già dall'inizio dall'avvio quante volte abbiamo visto la Spal entrare in campo come se fossero delle mozzarella scadute invece no a Como è stato diverso dall'inizio le cose sono andate diversamente poi dopo il Como ha falleggiato le difficoltà che aveva e la Spal ha marciato però secondo me in questa partita i meriti sono stati della Spal più che i meriti del Como sono assolutamente d'accordo con te ma vedo che c'è un nostro commentatore che distente e annuncia una campagna con Orla bloccali No perché Lafoglia e Leo sono due tra le poche persone che mi seguono su Instagram se dovessi bloccarli e sono due tra le poche persone che mi invitano anche fuori a bere e a mangiare No no infatti non ho motivo di diseredarvi e allora no il discorso è non volevo sembrare spocchioso nei confronti di Giacomo che ha fatto quella domanda dico solo che sono sempre perplesso sul bilanciamento meriti de meriti però per rispondere alla sua domanda secondo me in quella partita lì ci sono molti meriti della Spal nel senso che l'approccio è stato giusto il gioco è stato piacevole la solidità difensiva è stata conclamata poi è vero che se vai a guardare il Como gli mancavano 3-4 giocatori Parigini Cerri Caglia cioè quelli lì che sono 3 giocatori anche solo i 3 che ho menzionato che nell'economia del gioco del Como sono importanti era come se la Spal mancassero che ne so Mancosu Vido e Colombo diciamo così lascia stare che il Colombo degli ultimi due mesi è quello che è però insomma questa cosa ha un impatto infatti vorrei portarvi vorrei portarvi sul tema di Mancosu perché adesso Mancosu si è fatto male quanto mancherà Mancosu a questa Spal cioè nell'economia del gioco di questa Spal quanto mancherà Mancosu che è stato il giocatore più utilizzato in assoluto nella Rosa sia con Colotez sia con Venturato direi anche più prolifico se non alla pari con Colombo prolifico insieme con Colombo perché hanno fatto 6 gol entrambi mi sento pubblicamente di dovermi scusare con Mancosu perché probabilmente sono stata io a lanciargli la maledizione come ho fatto con Colombo scusa Marco non ero ogni volta che punto su qualcuno o smette di segnare o si fa male comunque mi dispiace dovrei sostenirti Poli comunque con il giochino stupido poi ci è saltato un turno perché mercoledì non c'eravamo e quindi siamo rimasti a Spal Cittadella no? e mi sembra che nessuno abbia fatto punto perché la Pol ha detto Vido lei aveva detto Dariva e io avevo detto Dickman che comunque Dickman sta facendo delle buone prestazioni non è che sono andato così lontano da allora anche Dariva ha giocato bene infatti non è che non stavo dicendo questo per attribuirmi dei punti dicevo solo che quando ho detto Dickman mi avete preso per il culo quando in realtà non c'era motivo di farlo perché Dickman ha fatto un assist siamo rimasti semplicemente un po' sorpresi dalla tua scelta Dickman oltre ad aver fatto un assist è incredibile quasi da trequartista un passaggio filtrante quindi Dickman ha posti Mancoso questo era il senso sì io penso proprio di sì però peraltro scusate vi interrompo ci scrive penso che Mancoso mancherà meno alla spalla di quanto sia mancato Dickman quando era squalificato credo sia vero perché scusate al mici è arrivato beh dai questo qua è uno che ha fatto 100 200 partiti in serie B non deve essere malaccio scusate devo riprendere anche un altro commento di Buzzo che mi chiede se gli voglio bene perché non lo menziono mai nei commenti scusa inizierò a farlo la pole mi ha messo il filtro anti Buzzo probabilmente no no Buzzo ti giuro che non lo faccio in questo momento devo salutare anche Andrea Sarni che è un altro mio compagno di corso che mi va a chiesto di essere salutato cosa hai fatto i volantini fuori dall'università praticamente ci pubblicizzo i miei amici mi vogliono bene quindi ci mandano saluti bene comunque l'osservazione di prima è ragionevole obiettivamente stavamo parlando di Dickman che mancherà più di Mancoso ok è mancato più di Mancoso esatto mancherebbe mancherebbe più di Mancoso però è diffidato perché appena prende un giallo ci dobbiamo cuccare di nuovo al mici non ci segue quindi non può bloccarci perfetto penso che ci seguirà e poi ci bloccherà è una dottrina preventiva ascolta adesso al mici penso sia grande abbastanza da rendersi conto che le prestazioni minora non siano state così entusiasmanti mettiamola in questi termini comunque di Dickman stavo dicendo che ha fatto al di là del passaggio filtrante ha fatto una corsa a tutto campo cioè è stata una roba poi alla fine va bene non è finita come probabilmente voleva anche perché probabilmente era il debito di ossigeno però ha fatto veramente una progressione dalla sua area fino all'area opposta micidiale quindi anche questo fa capire forse il momento psicofisico importante che sta vivendo Mancosu mancherà tanto Pollibor salute e a mio avviso mancherà molto perché signor giocatore è vero che secondo me sarà interessante vedere come la gira la squadra senza Mancosu perché è il classico giocatore al quale passi il pallone quando la situazione è brutta e roba pensavo collassasse la fine di quella corsa in effetti sembrava un po' sembrava un po' in crisi adesso la passa adesso la passa e va avanti adesso la niente arriva fino alla fine e poi basta aprivano il cancello andava dritto nel lago lanciamo papai scrive Pasquale ciao Pasquale no meglio di no no scusate volevo dire una roba su Mancosu che nel tentativo di indagare meglio questa storia dell'infortunio mi è parso di capire una cosa che alla Spal tutto sommato siano ottimisti su questa situazione di Mancosu nel senso che la lesione non è grave questa è già una bella notizia e che la valutazione di fatto sarà giorno per giorno perché mi è stato spiegato che questo infortunio è un infortunio più rognoso per il dolore che ti provoca che né per l'inabilità di giocare nel senso che il problema è che quando ti fai male appena ti sei fatto male il dolore è talmente forte che oggettivamente non riesci a rendere come dovresti però mi è stato appunto spiegato che la questione è giorno per giorno perché dipende molto dal livello di dolore che Mancosu avvertirà nel senso che lui nei prossimi giorni poi farà altri esami strumentali e tutto quanto per ovviamente vedere come va il decorso di questo infortunio ma molto dipenderà dalle sue sensazioni e non è del tutto campato per aria pensare di vederlo in campo anche entro una settimana questo mi è stato come detto come ipotesi diciamo così ultra ottimistica quindi vediamo vediamo cosa succede perché dipende molto anche dalla tigna dell'uomo che dice anche se mi fa male chi se ne frega gioco poi c'è Saverio mi sembra di averci dimostrato che ne ha stavo proprio riprendendo quello stesso commento a te l'onore dice io in realtà questa cosa non l'ho percepita quindi chiederò a Orla direttamente di spiegarci a proposito di essere bloccati da gente su Instagram venuti a conferenza stampa una domanda di Orla presa come una critica d'avventurato ha messo un bel rischio a riguardo raccontaci penso di aver perso il riferimento non me lo ricordo più cosa che ma sì allora intanto c'è un problema che da dicembre a questa parte le conferenze stampa pre partita e post partita vengono fatte via Skype e questo non aiuta ad avere un dialogo sereno no ma neanche sereno ma un dialogo ordinato diciamo così con l'allenatore perché di persona le discussioni si fanno meglio nel 99% di casi vendurato secondo me è arrivato in conferenza stampa che aveva già un po' i panetti girati per motivi suoi non so quali potessero essere però si si era intuito che non era di buon umore perché evidentemente insomma c'è successo qualcosa non lo so o forse non gli andava proprio di stare in conferenza stampa alle 13 del venerdì che magari è l'orario in cui voleva starsene con le gambe sotto al tavolo detto questo lui ha preso male una mia domanda che di malizioso di tendenzioso non aveva niente ecco quello che mi ha un attimo destabilizzato perché quello che gli ho chiesto è ma può essere che in una situazione la voce registrata orlandin sei solito rompi i coglioni per caso no credo esista questa cosa in via con parola però detto questo ma a far che no ma ho fatto una domanda che era inerente al fatto che una squadra a prescindere che sia la SPAL che sia la Pergolettese o chiunque in una situazione come la partita col Cittadella nella quale ti ritrovi sul ponteggio di 0 a 0 stai giocando discretamente con un avversario che non ti sta massacrando cioè che sta in campo ma tutto sommato fa la sua nesta partita che sia fisiologico inconscio per una squadra dire oh piuttosto che sbilanciarci e magari prendere un gol in contropiede da veri pirla stiamo ordinati stiamo messi bene se riusciamo a fare il golletto bene se no anche lo 0 a 0 non è proprio da sputarci sopra cioè io ho suggerito questo avventurato e lui è andato giù la catena non ho capito il perché perché lui l'ha interpretato come un attacco nel quale gli ho detto eh non avete le palle non l'avete attaccato non era assolutamente questa l'intenzione però lui l'aveva presa in quella maniera e quindi si è un po' scaldato però poi mi è stato detto da persone informate dei fatti che lui non era assolutamente intenzionato a creare alcuna animosità tra me e lui quindi vabbè basta vedere Rudy che dite che bastava vedere come era vestito con la tuta sopra la maglia da festa quindi qua stiamo andando ad analizzare veramente io adesso appena spengo vado a vedermi la conferenza vai a vederla quindi vabbè insomma spero spero che le conferenze stampa tornino in presenza perché andare avanti ancora con questo sistema sinceramente c'era stato detto che sarebbero tornati in presenza quindi pare che dentro il 31 marzo qualcosa debba cambiare speriamo speriamo o la giornalista terrorista che tra l'altro voglio dire io sono sulla lista nera di diversi allenatori ormai e quindi non ci tengo perché ad allungarla bene detto questo siamo detto questo Mancoso non è l'unico infortunato perché anche Vicari è ricaduto ancora su non so se abbiamo notizie di prima mano rispetto a quello che è uscito orla non so se oggi nel tuo passaggio è diverso Vicari allora vi recupero le informazioni che abbiamo su Vicari Vicari ha una riacutizzazione del problema accusato la scorsa settimana che era un problema diciamo di di carattere muscolare insomma si procederà con recupero personalizzato e valutato di giorno in giorno quindi anche qua si cercherà di capire devo leggere scusate il commento di Buzzo ma mi ha scusato di non leggerlo mai adesso li rilego tutti orla quindi stai facendo capire che se la gente ti blocca ci sarà un perché non lo so a parte che Viviani ci aveva bloccato non per colpa mia ma per colpa di qualcun altro non lo nominerò perché gli voglio bene ma sono successe delle cose vabbè comunque finotto finotto in teoria dovrebbe essere vicino al ritorno aspettiamo venerdì la conferenza stampa con Venturato per capire meglio insomma che appunto siamo col suo infortunio purtroppo ha avuto una lesione muscolare ora un po' rognosetta insomma e quindi bisogna stare un po' attenti per evitare che la cosa degeneri Vicari dicevi Leo Vicari appunto è da valutare di Vicari ho parlato anche con Viviani oggi diciamo che il miglior Vicari quest'anno l'abbiamo visto poche volte poi che ci sia magari un po' di come dire maretto no di accanimento su di lui forse sì però insomma ma accanimento più mediatico secondo me rispetto a quello mediatico e in parte anche un po' popolare dai io rispetto a quello che ho visto nella peggiore delle situazioni che è stato Parma mi sembra che la tifoseria sia a suo favore in ogni caso perché hanno applaudito è stato applaudito mentre passava infortunato sotto è stato proprio lanciato un coro anche in segno di fedeltà nei suoi confronti di una persona che studia la maglia che si merita quello che ha quindi mi sento di dire che non è proprio un accanimento generale poi no infatti io tutto accanimento io non l'ho personalmente non l'ho percepito e non non mi sembra che sia una di quelle persone meritevoli diciamo Polli che non sta attraversando un momento il momento da Londra Ferrara però insomma è fisiologico si parla di un giocatore che è qui da così tanto tempo che come dici tu è fisiologico che non sia sempre al 100% della sua forma fisica e anche in un momento in cui non attraversa la sua miglior forma fisica ci mette quello che ha per rimanere in campo e fare comunque delle prestazioni più che dignitose non mi sembra che abbia fatto errori così grossolani beh sì diciamo che qualche gol è stato imputabile lui per quello che ultimamente si è cominciato a storcere il naso però c'è chi ha fatto di peggio esatto ripeto non si parla di un giocatore arrivato qui sei mesi fa ma di un giocatore che è qui da così tanto tempo e che ricopre un ruolo importante dargli contro nel frattempo c'è Massimiliano che chiede la formazione di trovare contro l'Ascoli e chi andrà in porta penso che in porta qualora Alfonso dovesse stare bene penso che riprenderà lui il posto ecco chi può dirlo conventurato non ci sono certezze quanto riguarda i portieri perché anche Avea Cittadella aveva questa abitudine di fare delle alternanze anche un po' sorpresa quindi noi non sappiamo l'uno per cento di quello che viene fatto in settimana in via Copparo e quindi dipenderà molto da come si sono allenati questi due portieri quindi chissà alla fine Demba a Como ha fatto una bella prestazione per quanto non sia stato sollecitato in maniera avagerata però non mi ricordo neanche situazioni nelle quali avesse dato la minima impressione di poter andare in difficoltà quindi immagino che sia 50-50 cioè che Venturato voglia vederli giorno per giorno e sulla base di quello che vede decida c'è chi ci chiede di Zanellato trequartista troverai strano perché comunque Zanellato ha fatto una grande partita da Mezzala a Como diciamo che è quello il ruolo nel quale forse si trova più a suo agio e le scelte nel ruolo del trequartista possono essere in primi scrociata ma perché l'ha detto anche Venturato qualche settimana fa quando pensavamo che Mancoso avrebbe ricevuto un turno di riposo per rifiatare un po' perché ha giocato tutte le partite pensavamo che avrebbe fatto turn over e invece non l'ha fatto però Venturato il giorno prima si disse sì crociata è l'opzione numero uno se io dovessi decidere di dare un po' di fiato a Mancoso quindi mi viene da pensare che metterà crociata poi per il resto della formazione siccome non ci sono tutti i stimenti sarà sempre quella davanti Vido come il Chiorri a meno che non si voglia ancora dare Vido Colombo però secondo me per il momento di forma che stanno attraversando entrambi penso che giocheranno sia la scelta più sensata poi non trascuriamo un elemento che comunque gli allenatori spesso fanno le scelte anche in funzione delle caratteristiche degli avversari insomma Lascoli squadra piuttosto rognosa e anche un po' tosta fisicamente che gioca con questo 4-2-3-1 quindi immagino che anche al trequartista c'è crociata e venga chiesto un grosso lavoro di interdizione insomma su quello che è di fatto il trequartista dell'Ascoli che dovrebbe essere Maestro che è un ragazzo che peraltro è passato dalle parti del settore giovanile della Spalla insieme a Saric Rossi no mi chiede Buzzo lo troverei strano Buzzo perché Rossi intanto è una punta non è un trequartista cioè può fare il trequartista ma può fare l'ultimo quarto d'ora di partito i miei 20 minuti quando sta cercando di creare qualcosa in attacco ma all'inizio della partita il trequartista della Spalla è richiesto di fare un grosso lavoro di sacrificio non so se Rossi è nelle condizioni di sfiancarsi per rincorrere contrastare come fa Mancoso perché Mancoso è uno che rientra fino al limite dell'area per rincorrere gli avversari Rossi non ce lo vedo a farlo non ce lo vedo non per condizione fisica ma non ce lo vedo proprio per attitudine cioè è un giocatore che ha bisogno degli ultimi 15-20 metri di campo ed è lì che fa le cose più interessanti quindi sarei sorpreso da vederlo da vederlo stavo per leggerlo io il tuo commento sono solo stata anticipata nel frattempo c'è Stefano che dice che sei appena collegato e chiede Orro se gli fai un repilogo ma la cosa più importante Stefano che devi sapere è che Viviani ci ha sbloccato non l'abbiamo ripetuto sei volte cinque volte non l'abbiamo ripetuto queste tante volte però è il caso di ripetere praticamente è arrivato in chiusura dell'appuntamento del mercoledì ragazzi è ora di fare i pronostici sì è ora di fare i pronostici ne dobbiamo fare due come sapete perché siamo in pre Spalascoli mi raccomando prima di non lo so forse mi astengo no non ti puoi astenere che discorso è questo qua si rompe il gioco si rompe il gioco esatto io rompo i giocatori no non rompi i giocatori dai se vi ricordate questo gioco non era partito solo per indovinare chi faceva gol ma era o il positivo o il negativo chi è decisivo nel bene ma infatti è ancora così questo gioco cioè dopo noi siamo siamo sbrigativi e quindi mettiamo quello che segna ma in realtà se uno se uno dopo al confronto del pagello è stato il migliore ci si becca un punto dai questo è un fatto ok allora vai dopo di te però dopo dici che ti rubo le scelte dopo vado di nuovo con Vito Vito per Spalascoli quindi si ok ho una domanda prima di dare il secondo potersi dare mancoso per entrambi Pollit non ci hai pensato forse così potrei annullare dai lo do per la prossima settimana mancoso vediamo vediamo rientro dall'infortunio e rientro dall'infortunio e tocca quindi Vito per Spalascoli e per Perugia mancoso ah cioè tu ritieni che rientri da una settimana è Leo che mi vuole boicottare e vuole cercare di farmi rompere l'incantesimo però io ci credo e Marco fammi un regalo ok va bene ok ma non tu dovevi tornare ma anche essere i migliori in campo cioè questa è la cosa per peculinare io ci credo questo va bene ah Leo ti vuoi tenere per ultimo? sì sì perché dopo dite che che mi frego le scelte allora Perugia dico Melchiori perché secondo me fa il gol dell'ex e avrà motivazioni extra e per quanto riguarda Spalascoli beh sarebbe troppo ma guarda facciamo così dico crociata ok vi spiazzo vi spiazzo io invece vado con Dickman e Zanellato ma che copione cosa copione hai detto altri due io la prima volta in stagione due settimane fa posso mettere una riserva nel caso la prossima è il gol scusami cosa Polli? posso mettere una riserva nel caso Mancoso non rientri va bene dai Lodo Poletti dai chi vuoi mettere? metto Colombo vediamo se riesco ad annuncare e ovvierà a morte Colombo altro giocatore bruciato dalla Polli dalla Polli si riprova ragazzi va bene direi che abbiamo pronosticato tutto il pronosticabile Capra mecca tutta la vita per la difesa come dice Sovrani anche perché Vicari è fuori in questo momento direi che quella è la scelta numero uno va bene cosa abbiamo dato a Viviani per far sì che ci abbia sbloccato ma guarda Max questo ci tengo a dirlo però prima di chiudere poi veramente siamo liberi stasera non è servito dirgli molto a Viviani è servito parlarci e il fatto che io non fossi mai riuscito a parlarci del 2017 è indicativo di come questa tendenza andrebbe invertita perché io sono dell'idea che se i giocatori avessero più opportunità di confrontarsi in maniera onesta e corretta con i giornalisti i rapporti sarebbero di gran lunga migliori e invece qui dal 2017 con l'arrivo della Serie A abbiamo visto una progressiva restrizione delle possibilità di rapporto tra i calciatori e i giornalisti e questo mi dispiace perché oggi è bastata veramente mezz'ora per fare una chiacchierata molto bella nella quale lui ci ha reso conto che forse lo spallino non sono tutti stronzi e che quello che è successo è stato sostanzialmente un equivoco e quindi io incoraggerei la spalla ad adottare un approccio più aperto poi ci sono mille sfaccettature che non possiamo prendere in considerazione o non possiamo dire però insomma è bastato veramente parlare due persone si sono incontrate hanno chiacchierato ognuna ha capito le ragioni dell'altra e abbiamo risolto la questione io nel frattempo ho Elena che mi fa un appello di dire a Colombo di bloccarmi quindi vedremo e anche Mentor che mi dice di non stroncare il pupillo Colombo dove è il problema adesso sto solo cercando di invertire il trend io mi figuro che Colombo al primo gol in casa andrà verso la curva cercarla poi e farle esatto dopo che ha fatto così al primo gol esatto esatto comunque va bene un messaggio di pace di orla nei confronti dell'ufficio stampa della spalla speriamo che sia di buon augurio come Thor la prima non sono mai stato in guerra con l'ufficio stampa la spalla che stai dicendo no no sì un messaggio di distensione speriamo di dire le abbatte no ma io devo dire un'opinione e là dentro ne hanno un'altra ma dove è il problema ho capito io voglio dire che speriamo che la possibilità di fare l'intervista a Ligiani sia la prima di una lunga serie e di intanto già la seconda che facciamo per la newsletter direi che abbiamo innescato un trend per quello speriamo che sia di buon auspicio anche per tutto il resto grazie abbiamo finito sì buonanotte nel senso che grazie a tutti quelli che ci hanno seguito grazie a quelli che ci seguiranno domani grazie a chi ci seguirà su youtube grazie a chi si è iscritto alla logica della newsletter grazie a Polli e a Leo grazie a Viviani che ci ha sbloccato grazie a Viviani Viviani ci ha sbloccati a metà marzo abbiamo detto di fare un'ospitata clamorosa e dobbiamo muoverci dobbiamo lavorare facciamo così facciamo promessa solenne che se l'ospite che ci ha promesso di esserci è disponibile giovedì prossimo facciamo la diretta giovedì giovedì sì vediamo cosa riusciamo a combinare buonanotte a tutti buonanotte